Albino Fazio un nuovo rinforzo per il centrocampo del Pineto e questa volta arriva direttamente dalla Lega Pro, ex Melfi, insomma un curriculum di tutto rispetto, molisano di Campobasso, come mai la scelta di venire qui a Pineto e quindi anche di scendere di categoria? La categoria non è importante, è importante trovare un progetto ma soprattutto al giorno d'oggi è importante trovare, cosa sempre più difficile, delle persone serie, come quelle che ci sono qui a Pineto e quindi io quando ho deciso di andare via da Melfi e di trovare un'altra sistemazione, tra le varie offerte ho valutato questa in maniera molto seria perché mi sembrava la scelta migliore. Tu sei un mediano che gioca davanti alla difesa, che cosa può dare Albino Fazio in più a questo Pineto, visti anche tutti gli infortuni che sono capitati proprio a centrocampo? Ma niente, sicuramente cercherò di far esaltare le mie caratteristiche migliori, per metterle a servizio di tutti, dei compagni, dell'allenatore, della squadra tutta. Cercherò di fare del mio meglio, io gioco davanti alla difesa, mi piace dare i tempi, mi piace non buttare la palla, insomma cercherò di fare quello di cui sono capace e sono pronto e disponibile già da domenica prossima.